Vendere casa da privato può farti risparmiare tanti soldi, ne abbiamo già parlato nella prima parte della guida su come vendere casa privatamente, se non l'hai vista ti consiglio di andarla a vedere, trovi il link in descrizione oppure qua in alto, e adesso partiamo subito con la seconda parte. A questo punto è anche l'immobile in pubblicità, sui portali immobiliari, su internet, comincerai a ricevere telefonate, se hai fatto bene tutti i passaggi che abbiamo visto prima, quindi il prezzo è giusto, l'immobile è proposto con un buon materiale pubblicitario, comincerai a ricevere delle chiamate. E devi assolutamente, diciamo, scremare le persone che ti contattano, perché tantissime sono solamente dei perdi tempo, e adesso ti spiego come farlo. La prima cosa che devi capire è se l'immobile, se la tua casa è l'immobile giusto per la persona con cui stai parlando. Non aver paura di fare questo passaggio, è meglio fare una visita in meno, risparmiare del tempo, che perdere del tempo con persone che già sai che non compreranno il tuo immobile. Quindi cerca di capire se la tua casa è quella giusta per le persone, non far perdere del tempo a loro e risparmia il tuo tempo. Chiedi alla persona che ti sta chiamando che tipo di immobile vorrebbe trovare, che tipo di immobile vorrebbe acquistare. Ascolta la sua descrizione con calma, se ti manca qualche particolare e fai delle domande, per esempio, quante camere ti servono, quanto deve essere grande l'immobile, a che piano deve essere l'immobile, in quale quartiere della città, eccetera. Questo ti consentirà di capire se ci sono dei particolari che potrebbero far sì che l'immobile non sia adatto alla persona con cui stai parlando. Per esempio, la persona ti dice, sì, io sto cercando un immobile di 90 metri quadri che sia a un piano dal secondo in su e il tuo immobile è al piano terra, magari è un giardino bellissimo, però è al piano terra. Fallo presente alla persona con cui stai parlando. Non ti stai tirando la zappa sui piedi, anche se può sembrare così, stai risparmiando del tempo. Magari la persona ti dirà, sì, sì, no, ho visto che è al piano terra, ma ho visto che è un bellissimo giardino, mi piace la zona, quindi lo voglio venire a vedere. Ok, perfetto. Ma magari ti dirà, no, ah, non me l'ho raccorto che era al piano terra. No, allora no, non mi interessa. Benissimo, hai risparmiato un sacco di tempo prezioso che puoi dedicare a persone che sono effettivamente interessate al tuo immobile. La seconda cosa che devi capire è se quella persona può comprare. E qui devi fare delle domande che a volte potrebbero essere un pochino scomode, quindi cerca di utilizzare un po' di tatto quando le proponi. Ma lei, signore, mi scusi un attimo, ma lei deve acquistare con un mutuo? Domanda innocente, che si può fare? Lui ci risponderà sì, no, eccetera. Ok, sì, devo acquistare con un mutuo. Ah, ok, ma ha già chiesto in banca se può ottenere il mutuo, se è già informato, ha un broker. Mi spieghi? Qui capiamo se la persona è concreta, se si è già informata, se è una persona che ha la potenzialità di acquisto. Oppure no. Ovviamente se ci dice, no, non devo fare mutuo, acquisto con la mia liquidità, bene, o ci sta dicendo una cavolata. O comunque siamo abbastanza sicuri che possa comprare. Potresti chiedere anche il budget. Signora, ma lei quanto può spendere per la casa? 150.000 euro. Se il nostro immobile e noi vogliamo ricavarne 200, è chiaro che c'è già un'incongruenza. Vi assicuro che possono sembrare banalità, ma non lo sono. Le persone chiamano e magari si perdono dei particolari, quindi approfondite prima di andare a perdere tempo in visite inutili. C'è un altro vantaggio a mettere in evidenza subito i punti critici del tuo immobile. La persona, l'acquirente, ti percepirà come una persona sincera, aperta, che non vuole fregare nessuno. E questo ti tornerà sicuramente utile nella trattativa. Quindi non aver paura di mettere in evidenza punti critici o sfavorevoli della tua casa. Siamo arrivati quindi alle visite. Hai scremato le persone che ti hanno chiamato e hai selezionato solo le persone veramente interessate che possono acquistare il tuo immobile. Ebbene, le devi portare a vedere. Ovviamente avrai già visto in tanti articoli e video, devi avere la casa pulita, le do per scontato. Ti do un paio di trucchetti che forse non hai ancora visto. Il primo è organizza le visite nel momento in cui la luce è migliore. Cerca perlomeno di farlo, poi ci sono gli impegni lavorativi, eccetera. E questo lo devi, diciamo, valutare in base all'esposizione del tuo immobile, quindi al ciclo del sole. Se l'immobile è esposto a sud, diciamo che più o meno non avrai mai problemi. Se è esposto, per esempio, a est, potresti fissare le visite di mattina in modo che entri luce direttamente dalle finestre. L'esposizione a est è illuminata al mattino. E la luce solare, la luce naturale, dà un grandissimo valore al tuo immobile, te lo garantisco. Stessa cosa se è esposto a ovest, potresti organizzare le visite di pomeriggio. Il secondo segreto che ti voglio dare è organizza tutte le visite in una volta. O meglio, non tutte nello stesso momento, ma magari a intervalli di 15-20 minuti. Se poi hai una casa veramente grande, anche 30 minuti. Però tutti di seguito. Questo ti consente di risparmiare un sacco di tempo, innanzitutto. Che se vendi una casa che è molto appetibile è importante perché avrai sicuramente tantissime chiamate, tantissime visite. Quindi ti consente, uno, di risparmiare tempo. Due, ti consente di utilizzare due leve psicologiche importantissime verso i potenziali acquirenti. La prima è la riprova sociale. Quindi la persona che ha visto la casa, esce dalla casa e mentre ti saluta vede che sta arrivando, saluti un'altra persona per farle entrare in casa e farle vedere l'immobile, si rende conto che quell'immobile lì piace a tante persone. E come esseri umani siamo predisposti a fare quello che è accettato dalla società, che piace al nostro gruppo di pari. Quindi se l'immobile piace a tante persone, sarà un rinforzo per il potenziale acquirente che valuterà il tuo immobile in maniera migliore. Il secondo punto è l'urgenza. Quindi farai vedere alle persone che ci sono tante visite, che stai facendo visite prima e dopo il loro appuntamento. Quindi tu non hai bisogno effettivamente di vendere la casa loro, hai tantissime richieste. Questo susciterà nella loro mente l'idea che in qualche modo devono sbrigarsi a valutare se l'immobile piace o meno. Se piace, devono essere concreti, fare subito una proposta e portare in fondo l'affare. E ti darà più forza nella possibile trattativa. Prima di passare alla trattativa, che sicuramente è uno degli argomenti più interessanti, vorrei darti un punto in più, diciamo. È quello di analizzare i dati. Analizza quante visite ha fatto il tuo annuncio, analizza quante persone ti hanno chiamato, quante persone sono venute a vedere l'immobile, quante persone ti hanno fatto una proposta, magari anche verbale. E cerca di capire se c'è qualcosa che non va. Se stai ricevendo poche chiamate, pochi interessamenti, probabilmente c'è qualcosa che non va nell'annuncio. O, molto più probabilmente, nel rapporto prezzo metri quali, quindi forse devi ripassare dal primo punto, quindi calcola il valore del tuo immobile. Se invece ci sono dei problemi più avanti, magari nessuno arriva a fare una proposta, non ci sono poi effettivamente degli interessi dopo che le persone vengono a vedere la casa, ci potrebbe essere qualcosa nella visita o nella scrematura anche che non sta andando come si deve. Quindi, magari hai una discarica di fronte casa e quando parli con le persone non stai dicendo questa cosa, stai omettendo questa cosa qua e quando le persone vengono a vederlo, ovviamente si rendono conto del contesto e non piace. Qui ti consiglio, almeno per risparmiare del tempo, di far subito presente al telefono questa pecca immobiliare. Se ti rendi conto che ci sono delle caratteristiche che possono inficiare l'interesse, fallo subito presente al telefono, non far perdere tempo alle persone, non perdere tempo te stesso. E la seconda cosa è, di nuovo, torna al punto 1, ricalcola il valore del tuo immobile. Se non hai inserito come variabile il fatto che hai una discarica davanti casa, probabilmente il prezzo che stai chiedendo è troppo alto, quindi sarà difficile che trovi un acquirente. Cerca sempre di calcolare il prezzo in maniera oggettiva e di inserire tutti i particolari che sono importanti. Se viceversa il prezzo è troppo basso, in teoria non dovresti avere problemi a vendere, magari il problema è che perdi del denaro, perdi dei soldi, quindi di nuovo calcola attentamente il valore del tuo immobile. Bene, a questo punto hai trovato una persona interessata che vuole farti una proposta. Non accettare proposte al telefono o verbali. Non servono a niente, non contano assolutamente nulla. Una proposta concreta, che conta qualcosa, è una proposta scritta. Il codice civile italiano dice che quando si parla di immobili, i contratti e gli accordi devono essere scritti. Se io ti dico che voglio darti 200.000 euro per il tuo immobile, non conta assolutamente niente. Niente, non puoi neanche andare da un giudice e dire, oh ma lui mi ha detto che mi avrebbe dato 200.000 euro. No, deve essere scritto. Quindi esigi delle proposte scritte. Ovviamente dovrai parlare con le persone, ma a seguito di uno scambio telefonico, una trattativa verbale, chiedi che ti venga formalizzata una proposta per scritto. Altra cosa importante, se la trattativa si svolge in più step, in più incontri successivi, e non ci sono delle tracce scritte, fai magari un riassunto per mail. Ok, chiedi la mail alla persona con cui stai negoziando e fargli un riassunto. Magari la sera quando arrivi a casa scrivi, oggi ci siamo incontrati, questi sono i punti che abbiamo discusso, questi sono gli accordi che abbiamo trovato, queste sono le cose che dobbiamo ancora approfondire. Questo ti consentirà di intanto fissare il punto a cui siete arrivati nella trattativa e non rischiare che la volta dopo torniamo a discutere, torniamo a discutere punti su cui eravate già in accordo o che magari l'acquirente ritratti, quindi torni indietro, faccia dei passi indietro e cerchi di guadagnare denaro, quindi di risparmiare qualcosa o altre condizioni. Se è scritto è molto più difficile che questo accada, perché tu potrai dimostrare che già avevate raggiunto un accordo su quel punto. E il secondo è comunque di avere la memoria sempre fresca rispetto all'andamento della negoziazione. Ma entriamo più nello specifico con qualche, diciamo, consiglio per trattare come, tra virgolette, spingere un po' l'acquirente a fare una proposta migliore o a fare proprio una proposta. Il primo trucchetto, sempre tra virgolette, che ti voglio dare è quello di fare tante domande aperte. Le domande aperte sono quelle dove non c'è una risposta sì o no, ma la persona deve argomentare. Questo tipo di domande, quindi le relative risposte, ti consentono di raccogliere tantissime informazioni. Puoi poi utilizzare per risolvere dei problemi alla persona che hai davanti e quindi chiudere la trattativa. Se sei curioso sulla trattativa, ti consiglio ovviamente di andare a vedere il video che ho fatto sulla trattativa e l'articolo, ti lascio anche qua l'articolo, il link in descrizione. Il secondo punto è fai esporre prima l'acquirente sui valori, su qualsiasi condizione, sul prezzo. Fai esporre prima l'acquirente. Probabilmente tu hai già un prezzo in pubblicità. Quando vi incontrate per parlare della trattativa e capire se ci sono i margini per trovare un accordo, fai esporre prima lui. Non dire, ma io posso accettare tot. No, fai esporre lui. Fatti fare prima una proposta e se non è in linea con quello che tu vorresti realizzare, non fare subito una controproposta, quindi non uscire di nuovo con un altro prezzo. Semplicemente rifiuta, gentilmente, ovviamente, rifiuta in maniera gentile e magari fagli capire anche perché non puoi accettare quel tipo di proposta. Fagli capire che il mercato, portandogli delle evidenze, quindi altri immobili venduti magari nelle vicinanze, non dà quel prezzo lì, ma il prezzo che tu vorresti realizzare. Quindi non uscire subito con una controproposta, ma fai esporre il più possibile e ritarda la tua controproposta più lontano del tempo che puoi. Il terzo punto è dai all'acquirente cose che per lui magari sono importantissime, ma per te contano poco. Faccio sempre questo esempio. Se l'acquirente ha bisogno di entrare in casa entro tre mesi, ok, e per te magari non è un problema farlo entrare entro tre mesi, potresti concedergli questo ingresso anticipato, magari facendogli percepire che per te è un sacrificio, quindi dicendo, vabbè, dai, vediamo, posso organizzarmi per farti entrare entro tre mesi, però potresti chiedere in cambio 5.000 euro in più di caparra che possono darti un po' più di garanzia nella tua vendita. Quindi, in poche parole, scambia qualcosa che per te ha poco valore con qualcosa che per te è importante, per esempio il prezzo, un aumento del prezzo. Ora qui ci tengo a fare un inciso sulle proposte vincolate al mutuo, perché ricevo veramente tante domande da parte di venditori che vogliono avere informazioni sulle proposte vincolate, non hanno ben capito, eccetera, quindi dal blog oppure su YouTube mi contattano per farmi questo tipo di domande. Se la proposta è vincolata al mutuo, vuol dire che la proposta è sospesa, tra virgolette, e quindi la vendita non è effettivamente conclusa, ma dobbiamo aspettare che la banca dia, la delibera e darvi il mutuo. Questo potrebbe voler dire per il venditore rimanere bloccato anche per diversi mesi e perdere altre opportunità di vendita, magari anche a prezzi più alti e magari senza vincoli di nessun genere. Quindi devi valutare attentamente l'acquirente che ti chiede di inserire una proposta vincolata al mutuo. Lo puoi fare chiedendo magari una predelibera, una delibera reddituale, alcune banche la concedono anche prima di fare la proposta, oppure potresti farlo parlare con un broker di tua fiducia, un broker mutui, un mediatore creditizio di tua fiducia, che faccia uno screening, quindi faccia le domande, faccia un'analisi finanziaria ed economica della persona che ti sta facendo una proposta e ti dica se non ci sono problemi, il mutuo lo può ottenere, oppure attenzione, potrebbe ottenerlo, ma ci sono queste difficoltà, quindi se accetti una proposta sei a conoscenza che ci sono determinate cose che potrebbero fare andare storta la richiesta del mutuo e quindi farti perdere del tempo prezioso. In ultima analisi, se il venditore è particolarmente sicuro di ottenere il mutuo oppure il broker ti tranquillizza e tranquillizza l'acquirente dicendo che non ci sono problemi, il mutuo sicuramente lo può ottenere, potresti anche fare una proposta che sia svincolata dall'ottenimento del mutuo, anche se l'acquirente poi utilizzerà il mutuo per comprare, ma in questo modo ti consente di chiudere subito la trattativa, chiudere subito la vendita, ed essere sicuro di aver venduto l'immobile senza nessun tipo di vincolo. Quindi, benissimo, sei riuscito anche a trovare una persona che ti ha fatto una proposta e hai superato tantissime prove per arrivare a questo punto. Ti manca l'ultimo step che è il rogito. Il rogito prevede anche una certa parte di preparazione prima di arrivare all'atto definitivo di compravendita. Dovrai fornire al notaio una serie di documenti che se hai già fatto la raccolta documentale di cui ti ho parlato all'inizio di questo video sarà molto semplice, dovrai solo trasmetterli al notaio che di solito sceglie la parte acquirente, ti ricordo, però non è legge quindi potete mettervi d'accordo sul professionista che stipulerà l'atto. Se invece ti manca qualcosa dovrai affrettarti per recuperarlo. Inoltre chiedi sempre per tempo al notaio se ci dovesse essere qualche documento che vuole per l'atto. Ogni notaio ha un po' un modo diverso di lavorare quindi ti potrebbero chiedere documenti diversi le possibilità sono tantissime quindi non ha neanche senso mettermi qua a fare una lista ma chiedi e se lo chiedi per tempo ovviamente avrai tutto il tempo necessario per recuperare questi documenti mancanti. L'altra cosa è fatti mandare prima dell'atto una bozza del contratto che dovrete firmare. Questo perché così avrai il tempo di leggerlo di farlo leggere a un tuo consulente all'avvocato o a chi vuoi in modo che ti possa dare qualche consiglio e potrai capire se c'è qualcosa che non ti torna qualcosa che non hai capito e puoi chiederlo al notaio oppure al tuo consulente in modo che ti chiarisca se c'è qualcosa che non va oppure semplicemente qualcosa che tu non hai capito e va bene così. Anche quando sarai davanti al notaio con il tuo acquirente il notaio leggerà l'atto quindi non pensare cavoli tuoi ma ascolta quello che sta dicendo il notaio quello che sta leggendo. Non lo fa così per perdere tempo ma lo fa per capire se le persone sono d'accordo quindi se c'è qualcosa che non ti torna in quello che sta leggendo e dicendo il notaio ferma tutto alza la mano stoppa la situazione e chiedi fai domande se qualcosa non ti torna non aver paura di dire guarda questa cosa qua non mi torna non erano gli accordi che noi avevamo preso non è così che ce l'avevamo messi d'accordo quindi io oggi la casa non la vendo perché questa cosa qua non mi torna. Quello che voglio dirti è non aver paura di fermare il notaio se c'è qualcosa che non ti torna. In fin dei conti si tratta della tua casa si tratta dei tuoi soldi e quindi devi essere preciso e attento. Ok il video è stato un po' lungo spero di aver dato un sacco di informazioni che possono esserti utili nella tua vendita. se ti è piaciuto metti mi piace iscriviti al canale se hai qualsiasi tipo di domanda trovi tutti i link in descrizione per contattarmi noi ci vediamo nel prossimo video e ti auguro una buona vendita da privato. Ciao